Santuario della Rocchetta, vi porto fino a su, vi porto fino a su, eccoci, c'è Gianmario e Angelo davanti a me, eccolo Gianmario, eccolo, eccolo, eccolo Gianmario. Vai Ernesto, grande Ernesto, cazzo facciamo il video e devo più, Ernesto gli hanno detto che la Roma sta in giro, lì che bello, ci sei eh, vado un po' la matti perché c'è un po' in ritardo, sì sì, ok, durissima, ce la devo fare, ce la devo fare, Pausa automatica. Non ho fatto, grazie.